Un percorso per la comprensione del pianeta in relazione alle biodiversità. Con questo noi vogliamo contribuire alla comprensione della vita e all'adattamento della vita sugli ambienti estremi della Terra, come l'Agro Irlandia, come l'Himalaya o come i deserti africani. Vogliamo un po' di percorrere gli esploratori, le genti della Valle del Cerva, che nei secoli passati percorrevano questi luoghi così duri, così veramente estremi. Un po' come Shimpton, un po' come tutti gli esploratori, i primi esploratori degli anni 30 e 40 della conquista dell'Everest. Quanta parte della biodiversità umana dipende dall'adattamento all'ambiente? In particolare, quanta parte dipende dall'adattamento agli ambienti estremi? I primi studi hanno riguardato l'adattamento delle popolazioni dell'Asia centrale e delle Ande e grazie invece alla conoscenza che ho potuto avere dal 2008 ad oggi con Davide Peluzzi e la Nunat Explora, ho avuto la possibilità di avere campioni d'are estreme. Nel 2008 il primo incontro mi ha dato modo di avere campioni piuttosto rari della costa orientale della Groenlandia. Era finalizzato appunto a ricostruire la genetica per linea materna e paterna di queste popolazioni della Groenlandia. L'esplorazione è un concetto otalico, antico. Plorare, piangere, pregare. Che cosa significa esplorare? La conoscenza che si sposta sempre più là. Successivamente con le spedizioni che Davide e i suoi collaboratori hanno portato avanti nell'Himalaya sia nel 2011 che nel 2013, ho avuto la possibilità di avere campioni dalla valle del Rolvaling, che è una valle nascosta, isolata, difficilissima da raggiungere. È stato possibile avere delle impronte degli individui campionati. I primi risultati sembrano confermare, oltre alla presenza dei denti a paletta e quindi dello shoveling, che è comunque un tratto caratteristico delle popolazioni asiatiche, altri caratteri arcaici che sembrano avvicinare queste popolazioni ai neandertaliani. Le popolazioni della Rolvaling, e in particolare le comunità appartenenti al gruppo etnico degli Sherpa, rappresentano un ottimo caso studio per approfondire le conoscenze sull'adattamento umano all'alta quota e all'ipossia. Oltre a un clima estremamente arido e freddo, l'ambiente di alta quota pone uno stress ipossico, quindi una carenza di ossigeno, molto molto elevata. Basti pensare che all'incirca 4.000 metri di quota, la pressione parziale dell'ossigeno è circa la metà di quella che si registra a livello del mare. È stato possibile avere e ottenere, oltre a dati sulla genetica, fare prelievi anche di mucosa buccale che ci permetterà di analizzare da un punto di vista epigenetico queste popolazioni e campioni di feci. Questo importante campionamento darà dei grandi risultati per quanto riguarda l'epigenoma, l'interazione tra il genoma di questi individui e i microrganismi intestinali, perché sembra che questa coevoluzione sia la base di tante epatologie e forme di adattamento e sarebbe la prima volta che si riescono a individuare microrganismi della flora batterica intestinale adattati a regime di possia. L'universo spetta pazientemente il nostro ingegno. Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.